Quanto è bello è creato, mi d'accordo quando guardo Barbara, sei di lato, è faiato, è stato un'anima. Allora, tu? Alberto. Cognome? Canteri. Canteri. Alberto Canteri. Alberto, che sono certo, dentro il deserto di Cognome, ma canteri, sto solo e prendo il volo, per raggiungere anche il volo. Che volo? Grazie, poi ne parliamo anche. Sono in venti qua. Signore, verita, la sta chiamando. La facciamo solo, eh? No, 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 è proprio titolato nel luoghi di teatro. Si sta anche incazzando, quindi non lo mi scuderemo. Ma prima lì, vuoi tornare? Vi ragazzi amo, seppa. Blu. Di Uri, vedrà. Ti trovo, piedi. Non so, non so. Non so, non so, non so. No, ma che ci vedete notti? Bentrati! Yuri! Yuri! Donate le sguardi scuri! E tutti i fratelli! Sembra arrogante! Ma il più dolce del reale! Trami! 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 Ah! Bene, adesso ancora Antonio Alpanese! Antonio Alpanese! Chi è Antonio Alpanese? Ciao! Antonio Alpanese! Adesso mi compre con Calabrese! Però preferisco Calabrese! Seguro reale cuida del paese! Anche solo per un mese! Perché lui non vale a spese! Che grande non padece! Prima avevo solo da Calabria, ora avevo Calabrese! Carabrese! Taxi! Allora! 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 cast Turisca. Grazie.